Tartarughe Ninja della IDW, numero 9 di Eastman, Walk e Duncan, battaglia per la vita. Buia cache, bentornati su Nomamamazzo, bentornati nella rubrica fumetti e nella rubrica Tartarughe Ninja. Continuo la mia retrospettiva sui vecchi numeri delle Tartarughe Ninja, editi in Italia da Panini Comics e in America dalla IDW, uscite appunto dal 2011 in America e dal 2013 in Italia. Ora molto difficili da reperire in edicola o in fumetteria o negli arretrati o persino sul sito Panini ed è proprio per questo che io sono qui a parlarne con voi per farvi un riassunto dei numeri passati in modo che voi siate più invogliati a comprare anche i numeri presenti che potete trovare ogni due mesi in fumetteria e nelle librerie dedicate. Attualmente siamo al numero 51, dovrebbe uscire il numero 52, io ora sono a parlarvi del numero 9. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di condividere il video con tutte le persone che sono bravi a utilizzare le armi ninja e di commentare qui sotto con quello che ve ne è parso di questo numero, di questo riassunto, delle Tartarughe Ninja in generale e qual è la vostra Tartarughe Ninja preferita, ve lo chiederò a ogni video probabilmente. Se mi seguite già dal video scorso o comunque dai numeri scorsi, sapete che siamo rimasti a uno scontro tra Shredder e Splinter. Shredder e il clan del piede ha rapito il maestro Splinter, ha capito che dietro all'aspetto da ratto del maestro Splinter c'è il suo antico rivale Amato Yoshi, molto antico in questa incarnazione della IDW, poiché Splinter è una reincarnazione di un guerriero del Giappone feudale. Amato Yoshi non è un ninja degli anni 80, degli anni 90, di quello che è, ma è proprio un ninja del Giappone feudale. È stato ucciso da Orokusaki nel Giappone feudale ed si è reincarnato in questo topo da laboratorio che poi è stato mutato con il mutageno che tutti conosciamo. La stessa cosa vale per le Tartarughe Ninja che sono i suoi quattro figli che ha avuto con la sua amata Tang Shen e nel numero scorso abbiamo parlato della sua gioventù e della conoscenza dell'innamoramento con Tang Shen fino ad arrivare all'uccisione da parte di Orokusaki e del clan del piede. Non sappiamo ancora, cioè io lo so perché ho già letto i numeri, ma non sappiamo ancora perché invece Orokusaki è vivo e vegeto nel tempo presente. Fatto sta che si stanno scontrando in questo momento e Splinter è esausto, ha combattuto Karai che chiama Orokusaki nonno, ha combattuto Halopex, la volpe mutante, ha combattuto tutto il clan del piede, quantomeno tutto quello presente in questo nascondiglio e ora sta affrontando Shredder da un numero intero ed è stremato, sta per cedere quando finalmente arrivano le Tartarughe Ninja che nel numero scorso hanno scoperto, grazie ad Angel, un'amica di Casey Jones che fa parte di un gruppo di... mi dispiace chiamarli teppisti, però un gruppo di ragazzi di strada che tengono al sicuro il quartiere, ma nel modo più corretto del termine, non pensate che vadano in giro a chiedere mazzetti o cose del genere, Angel, che si rivelerà poi un personaggio importante nella storia delle Tartarughe Ninja, sa dove si radunavano i membri del clan del piede, gli indica a Casey e anche le Tartarughe Ninja il luogo dove potrebbe essere stato rapito Splinter e appunto le Tartarughe Ninja entrano in aiuto del loro maestro, del loro padre, in questo scontro che a differenza dello scontro di settimana scorsa, di cui vi ho parlato settimana scorsa, non c'è tutta questa introspezione, questo lavoro di conoscenza del personaggio Splinter, del suo carattere, della sua storia, qui si vedono le botte da orbi, si vedono le mazzote, quindi un numero totalmente di azione dove però non mancano alcune chicche molto molto belle. Sempre per andare a differenziare i vari caratteri dei personaggi, dei protagonisti, mi è piaciuta molto questa vignetta in cui Leonardo e Carai si scontrano per la prima volta e Carai dice a Leonardo è inutile che combattete, siete sotto di numero, noi vi superiamo in numero e Leonardo risponde a Carai ti svelerò una cosa della mia famiglia, è a mio fratello Donatello che interessano i numeri e poi la colpisce la terra, a Leonardo interessano i miracoli, io sono quello che crede nei miracoli, questo proprio per dimostrare la differenza di carattere tra Leonardo e Donatello, che Donatello è molto più ancorato a tutto ciò che può toccare, che può sperimentare, che può provare col metodo scientifico, invece Leonardo è il classico credente, crede nella via del Bushido, crede nel suo maestro Splinter, crede nella sua famiglia. Un numero conclusivo di questa prima battaglia tra le tartaruga ninja e il clan del piede, Shredder si rende conto appunto, oltre al fatto che questo topo Splinter è amato Yoshi, si rende anche conto che le tartaruga ninja sono i suoi quattro figli che lui stesso aveva sterminato, quindi viene trapelata questa cosa da Michelangelo e Shredder la intuisce. Il numero si conclude con Splinter che viene riportato a casa e finalmente fa la conoscenza di April O'Neil, che non aveva ancora visto fino adesso in questo stato, ma che April aveva conosciuto in laboratorio quando era stagista da Baxter Stockman e conosceva Splinter in qualità di topo di laboratorio, un po' come il primo tartaruga ninja del 2014, quello proprio lì, però ecco, più o meno la storia è quella da questo punto di vista. April O'Neil era stata salvata da Splinter Ratto già nei primi numeri e finalmente April ha l'occasione di ringraziare Splinter. Qualche numero fa Leonardo era stato battuto da un membro mascherato del clan del piede con una cicatrice all'occhio. Non sapevamo chi fosse, io pensavo fosse il secondo in comando di Shredder, invece in questo numero si scopre che è Shredder in persona che era andato a esplorare per capire come combattevano queste tartarughe. Quindi svelato anche questo mistero di cui io onestamente non ricordavo, quindi è stato anche un piacere riscoprire insieme a voi questa cosa. Come sempre ci sono due storie in questa attuale edizione da 3,30 euro di questi numeri vecchi perché al momento invece sono numeri un po' più costosi, un po' più grossi come numerazione di pagine. La seconda storia è tutta dedicata a Casey Jones, è tratta da le micro series dei Turtles in America, quindi qua hanno accorpato due fumetti. Questa è tutta dedicata a Casey Jones e di come ha fatto una promessa sul letto di morte alla propria madre. Quindi questo Casey Jones è orfano di madre, si capisce in questo numero che la madre è morta di una malattia perché è allettata e Casey e suo padre la vanno a trovare, e di come Casey sia la vera forza della famiglia, madre esclusa, che anche sul letto di morte è più forte di tutti quanti, e chiede a Casey di occuparsi di suo padre che è l'anello debole di questa famiglia perché non riesce a sostenere il dolore della perdita della propria moglie e affoga il problema nell'alcol. Affoga il problema dell'alcol e non in colpa a Casey, ma ogni scusa è buona per prendersela con il figlio, ogni scusa è buona per farsi grosso, farsi forte di fronte a suo figlio. Basta che il figlio lo guardi storto, che gli risponda male, perché il padre di Casey, pieno di alcol, lo malmeni. E dal momento che Casey riesce a tenere testa ad alcuni membri del clan del piede, non si capisce perché Casey si fa pestare da suo padre, è parte della promessa che ha fatto sua madre, ovvero lui è forte, non ha bisogno di dimostrare la sua forza, a differenza invece di suo padre, che è debole e vuole dimostrare di essere forte, quindi si fa prendere la botte da suo padre in un certo senso per aiutarlo a sfogarsi. È una cosa che comunque lui non sopporta, lui non sopporta suo padre e fa tutto questo, per sua madre. In questo numero lo vediamo andare a recuperare un cimeglio di famiglia, un piccolo gioiellino a forma di mazza da hockey, che la madre aveva al collo e che era presumo di proprietà della madre, probabilmente Casey lo ha regalato alla madre prima di morire e poi lo conservava. Il padre ubriacone, pieno di debiti, se l'era venduto per cercare di sanare questo debito. Vediamo Casey Jones che pattuglia con Raffaello e vanno appunto a riempire un po' di schiaffi gli strozzini che avevano chiesto il denaro indietro al padre di Casey, che si chiama Arnie, Arnold, Arnold Jones. Casey Jones si intima a questi scagnozzi, a questi strozzini, di lasciare in pace Arnold Jones. Arnold Jones è off-limits, non si deve assolutamente toccare. Nel farlo poi si riprende anche il suo gioiello appartenuto appunto a questo ricordo della madre. Un numero molto bello, mi spiace che sia in un certo senso non troppo legato alla continuity della storia principale, ma ci permette di approfondire un pochino sul personaggio di Casey Jones. Quindi tanta, tanta, tanta roba. Altro che fumettone commerciale. Ragazzi, si conclude anche oggi questo video. Io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.